Con l'inaugurazione del nuovo Virgin Galactic Gateway to Space nel deserto del New Messico, il turismo spaziale è ormai un passo da diventare realtà. La base operativa della prima compagnia spaziale commerciale del mondo ospiterà il terminal per i passeggeri degli astronauti della Virgin Galactic, tutte le attività di addestramento dei futuri astronauti, oltre al centro di controllo delle missioni. Presenti all'evento c'erano anche 150 futuri turisti spaziali provenienti da 21 paesi, che si sono già assicurati un posto sui primi voli nello spazio. Grazie a tutti i nostri spaziali, Grazie a tutti i nostri spaziali,